L'Amatori chiude il girone di andata al terzo posto con una vittoria molto importante, molto bella, una partita molto bella, determinata contro un avversario di rango, almeno che è reputato di rango superiore. Qual è stato l'arma vincente di oggi? Forse ci ripetiamo? No, l'arma vincente secondo me è il collettivo e la qualità di questi ragazzi, la voglia di stare insieme, la voglia di passarsi la palla, la voglia di soffrire, la voglia di provare ad emergere in un campionato dove i valori probabilmente sono abbastanza altalenanti, quindi non c'è ancora, tranne Agropoli forse le altre stanno lì e quindi la cosa importante era secondo me giocare una partita di impatto, di sostanza perché quelle che ci stavano davanti avevamo fatto due buoni primi quarti sia con Agropoli che con Palermo, però poi alla fine siamo un pochettino implosi, quindi ero anche un po' curioso di vedere che tipo di partita riuscivamo a fare contro Bisceglie che oggettivamente è una squadra importante, ero abbastanza curioso e devo essere contento sicuramente ma devo fare i complimenti a questi ragazzi perché hanno un cuore grandissimo, una voglia di vincere, una voglia di stare insieme che secondo me è superlativa. Quindi è il gruppo, la forza del gruppo, la caratteristica principale di questi amatori che ripeto chiude al terzo posto assoluto alla fine del giorno di andata. La capacità veramente, la voglia di stare insieme che hanno che secondo me ci sta premiando in questo giorno di andata, ce la godiamo, facciamo un buon capodanno e poi ricominciamo perché l'undici quando ricominciamo a giocare viene Monteroni che è una squadra che secondo me è candidata anche lei ad arrivare fino in fondo. Grazie a tutti.